E buongiorno dottore Buongiorno mi dica Dottore ho un problema Mio marito non mi basta più Ma perché lo dice a me? Sa succede se poi non resiste si faccia un amante Ma veramente ce l'avrei già Ma non mi basta più Ma cosa le devo dire? Se ne faccia due o tre? Ma si ne ho già ma non bastano mai Si ma lei è malata Bravo dottore me lo metta per iscritto Mio marito dice che sono una troia